Un'esposizione di Bici d'Epoca ha fatto da cornice all'arrivo dei protagonisti del Giro d'Italia in 80 librerie che questo pomeriggio ha fatto tappa a Piacenza. Nel cortile della biblioteca Passerini Landi sono stati accolti i protagonisti del singolare tour che hanno raccontato la loro esperienza. Piacenza è la decima fermata della loro staffetta ciclistica. Questa di oggi credo sia la decima tappa, ne abbiamo ancora 18, quindi arriveremo a Roma il 21 giugno. Dopodiché è prevista una tappa speciale, un evento speciale a Vasto tra il 4 e il 6 di luglio dove ci saranno varie iniziative, ci sarà anche questo primo evento mondiale di campeggio libro che è un campeggio libro che sarà però molto legato al tema lettura. Presenti alla Passerini anche gli organizzatori del Pesalibro e rappresentanti delle associazioni Avis, Aido ed Admo. Abbiamo aderito molto volentieri alla richiesta di partecipare anche perché pensiamo che essere presenti in questa bellissima cornice sia la possibilità di farci conoscere e anche il fatto che usciamo come tutte e tre associazioni assieme come donatori di vita per noi è una cosa che ha una importanza significativa.